Cari amici di noi del Marchesato e del gruppo Facebook Noi di Santa Serena, questa sera siamo al ristorante Al Favarò di Rocca Bernard per la festa dell'8 marzo, la festa delle donne. Il personaggio principale di questa serata è l'attore Alex Velli. E' male a me mandato all'inizio a noi, e' dittura stasera, e' dittura stasera, e' male a me mandato all'inizio a noi, e' dittura stasera, cuore mio son bacca a noi. L'economia non superpalla, l'economia non è la mia, e' ci vorrebbe un'azzitella, ci vorrebbe un'azzitella. Ciao! Sì! 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 MetropShox MetropShox le mani le mani tutti tutti MetropShox 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 Solitamente Come fa' Bum 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 Cosa sottotitola Bum 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 E vedi tutti a tempo! Lo facciamo di una linea! A tempo, a tempo! Siamo subiti a partire! Siete carichi sulle mani! Dario, si è riconosciuto! Alte, special guest Alex Belli sulle mani! Su le mani! Facciamo un saluto alla telecamera! E così, così viene spontaneo un nero! Eeeh! Oh! 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 Sì, sì, sì. Facciamo un bel cuoricino per le mani, tutti, tutti! Facciamo un bel cuoricino per le mani, tutti! Facciamo un bel cuoricino per le mani, tutti! Facciamo un bel cuoricino per le mani, tutti! Facciamo un bel cuoricino per le mani! 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 Alla via! 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 Buonasera! Buonasera! Che ti fai desiderare? Io ho fatto l'impossibile! Veramente ragazzi, noi ce l'abbiamo messa tutta! Tutta! Chi è l'autista? Cioè siamo arrivati, ti dico solo che c'era la strada sterrata, il convento di San Francesco! Davvero? Il vento di San Francesco! La prossima volta ti metteremo! Secondo me abbiamo sbagliato! La prossima volta ti metteremo un paracadute e ti lancieremo direttamente! Oppure erano sei! Erano sei! Erano sei! Ci siamo andati! Tutti gli amici di Santa Severina! Eh, tutti gli amici di Santa Severina! Dice... Ma penso che non ci fai male! Allora, tutti gli amici di Santa Severina! Allora, tutti i amici di Santa Severina! Questa è la prima volta! 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 Per raggiungere l'identità come donna, l'identità di libertà ci abbiamo messo decenni, vent'anni, ci sono posti nel mondo che la donna non è considerata come è considerata qua in Italia, perciò è la vostra festa, io amo le donne, amo tutte voi, un abbraccio, ciao. Adesso facciamo tutti i selfie che volete, va bene? Adesso facciamo le foto, mi perlgo alzare il microfono, mi perlgo alzare il microfono, allora, venisciamo a fare una cosa educata, si legge lì e facciamo le foto, una alla volta, tanto lo faccio in tutti, sta con noi più che vogliamo, quindi non c'è bisogno che ci... Ma posso dirvi, posso dirvi, vi sapete, sentiamoci qua davanti, col nostro bel fotografo, non diamo, vi mettete qua con me, eh? Ti piace là? Sì! Allora se c'è il back drop là, ragazzi... 1,2,3, ok. Scusate! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.